Somiglia sempre più a un film d'azione La caccia a Christopher Dorner, l'ex poliziotto ricercato da più di una settimana in California. Il suo corpo senza vita potrebbe trovarsi all'interno di uno chalet sulle Big Bear Mountains, distrutto dalle fiamme dopo una sparatoria. La polizia non ha potuto ancora iniziare le ricerche in quel che resta dell'abitazione per il troppo calore. Di certo si sa che gli omicidi sul capo dell'uomo sono diventati cinque. Alle tre vittime della scorsa settimana si aggiungono due vice sceriffi colpiti a morte durante il conflitto a fuoco.